le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di domenica 31 luglio ariete se avrete voglia di starvene per i fatti vostri nessuno potrà farvere una colpa avete bisogno di riordinare le idee la luna vi chiede di programmare lavoro e vita privata toro questa luna meravigliosa apre scenari inattesi sia l'amore che nel rapporto con gli altri mettetevi in contatto con una persona lontana al più presto gemelli la vostra testa è già proiettata gli impegni di lavoro e rischiate seriamente di rovinarvi la giornata ci sono dei problemi che vi tormentano cancro una bellissima venere vi regalerà una giornata piena di brio ed incontri divertenti anche in amore sarete al centro dell'attenzione dovete approfittarne leone trascorrerete la giornata in famiglia non siete dell'umore adatto per affrontare impegni stressanti il riposo dovrebbe essere la vostra unica parola d'ordine vergine una bella luna nel vostro segno vi mette dell'umore adatto per vivere una giornata entusiasmante in cui può succedere qualcosa di veramente speciale bilancia con venere negativa c'è sempre qualche piccolo problema in amore non fatevi prendere dal panico e cercate il giusto compromesso per non litigare scorpione con questa luna potete permettervi un piccolo lusso una cena speciale una giornata al mare con tutte le comodità possibili venere è passionale sagittario luna negativa per il vostro amore per la forma fisica ma che grazie all'aiuto di giove potrebbe contribuire a tirarvi fuori da una posizione scomoda capricorno è arrivato il momento di staccare la spina non fatevi condizionare dai doveri familiari o dai problemi che ci sono in casa uscite ed incontrate gente acquario sembra esserci una bella schiarita nel vostro cielo sotto questa luna riuscirete a valutare molto meglio un aspro scontro avvenuto nei giorni scorsi pesci la luna opposta può rovinarvi questa domenica ma voi dovete fare di tutto per tenere a bada le tensioni salvaguardando il rapporto di coppia avete bisogno anche di relax e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus la pagina oroscopo di azusa